La Polizia di Stato svela il progetto del calendario istituzionale 2018. Gli scatti, che avranno il compito di ritrarre il delicato ruolo degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, sono stati affidati ad 11 giovani fotografi professionisti dell'Agenzia Fotografica Contrasto, una realtà unica nel mondo dell'immagine che costituisce un punto di riferimento per la fotografia, operando nel mondo dell'informazione e della cultura con un ruolo di primo piano nel campo della fotografia d'autore. Tutti gli scatti rappresentano da nord a sud del nostro paese il variegato mondo della Polizia di Stato con un approccio artistico unico e diverso per ogni foto. Per l'edizione del prossimo anno il calendario della Polizia di Stato ha introdotto un'assoluta novità artistica. Uno degli scatti che correderanno l'iniziativa è stato individuato attraverso un concorso fotografico a cui hanno partecipato molti poliziotti che hanno voluto rappresentare la propria dimensione professionale attraverso lo strumento della fotografia. Non solo la mano e l'occhio di esperti fotografi, ma anche l'intuito fotografico di un poliziotto ha permesso di realizzare uno straordinario lavoro artistico che anche per il prossimo anno permetterà di rappresentare nella sua interezza e nella sua diversità la Polizia di Stato. Anche quest'anno la realizzazione del calendario ha trovato la partnership di Unicef ed il ricavato e la vendita sarà destinato al Comitato Italiano per l'Unicef Onlus per sostenere il progetto Italia Emergenza Bambini Migranti. L'Unicef sta lavorando in Italia da circa un anno e per la prima volta per assicurare a tutti i bambini migranti e rifugiati l'accesso a servizi equi, tempestivi e di qualità che garantisca loro protezione, cure ed inclusione sociale. Nel 2016 sono oltre 25.846 bambini adolescenti sbarcati sulle coste italiane e più di 6.500 sono arrivati soli, non accompagnati. Il Comitato Italiano per l'Unicef per la prima volta donerà anche 8.000 euro del ricavato al Fondo Assistenza Polizia di Stato. Grazie alla consolidata partnership con Unicef dal 2001 ad oggi sono stati complessivamente raccolti più di 2 milioni di euro e completati diversi progetti di cui alcuni a sostegno dell'infanzia e contro lo sfruttamento dei minori in Cambogia, Benin, Congo, Guinea, Repubblica Centroafricana. Solo nel 2017 sono stati raccolti più di 151.000 euro che sono stati devoluti per sostenere in Libano il progetto Youth and Innovation finalizzato a promuovere nel Paese l'integrazione sociale ed economica dei giovani a rischio. Grazie a tutti.